Ed eccoci qui al nostro primo vero incontro di questa didattica distanza. Allora, i nostri incontri saranno possibilmente divertenti come quelli che facciamo in classe, dove più che lezioni sono momenti di ragionamenti che facciamo, riflessioni, perché il maestro dice sempre dobbiamo ascoltare, elaborare, perché in questo modo esercitiamo la nostra intelligenza, oltre che impariamo delle cose importanti che ci serviranno per sempre. Oggi vi parlerò del nome, i nomi, i nomi, però parto da delle cose simpatiche, curiose, fatti di vita, spesso le persone più anziane, ma non perché non siano capaci, ma perché la loro abitudine non danno una definizione ben precisa al nome degli oggetti. Che so, io mi ricordo quando la mia mamma faceva l'ucciato, vuoi apprendere quella cosa che sta sul mobile di là nel cassetto, vedi quella cosa? Oppure qualche nonna che dice, non ti ricordi quella cosa che ti ho detto l'altro giorno? Quella cosa? E che cosa? Allora, vedete, è importante invece specificare, specificare con l'esattezza del nome di che cosa parliamo. Allora, entriamo nell'argomento. I nomi. Voi immaginate quando un tempo i nomi non erano così chiari come lo sono oggi, grazie anche a una raccolta che noi attraverso il vocabolario riusciamo a conoscere, migliaia, 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 migliaia di vocaboli, parole, parole, parole. Però i nomi. Restiamo sui nomi. Se noi andiamo a trovare un nome comune sul vocabolario, subito dopo il nome, prima della spiegazione del significato di quel nome, troviamo scritto sost, che vuol dire sostantivo. Sostantivo e nome comune è la stessa cosa, è un sinonimo. La parola sostantivo è un sinonimo di nome comune. Comune che vuol dire? Vuol dire generico. E adesso capiremo che cosa significa. Ora, è importante chiarire la differenza tra i nomi comuni, i nomi generici e i nomi propri. Ok? Partiamo dai nomi comuni. Tre. Le tre categorie dei nomi comuni per il momento. Allora, nome comune di persona. Nomi comuni di animali. Nomi comuni di cosa. Andiamo sui nomi comuni di persona. Allora, si riferiscono sicuramente a tutti i gradi di parentela. Mamma, papà, sorella, fratello, zio, zia, nonno, nonna, cugino, eccetera, eccetera. A tutte le professioni, a tutti i mestieri. Maestro, maestra, dottore, dottoressa, panettiere, salumiere, pescatore, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche il gruppo delle relazioni. Amico, amica, marito, moglie. Ora, è importante questo perché? Perché capire che i nomi comuni generici sono quelli che appartengono a tutti. Quindi, tutti quelli che fanno, per esempio, il mio lavoro, il maestro, appartengono alla categoria dei maestri. Quindi è generico. Quando dici il maestro, sì, uno qualsiasi. Generico. Poi abbiamo i nomi comuni di animali. E qui ci possiamo divertire. Tutti gli animali dell'acqua. Pesce, balena, delfino, quello che volete. Ok? Tutti gli animali della terra. Giraffa, elefante, cane, gatto, forminca, tartaruga, scoiattolo, eccetera, eccetera. Tutti gli animali che volano. Gabbiano, fringuello, farfalla, eccetera, eccetera. Tutti gli insetti. Insomma, generico. Nome comune di animale. Poi, generico. Nome comune di cosa? Gli oggetti. Tutti gli oggetti che ci circondano, bambini, tutto quello che voi vedete intorno, ha un nome generico. Se io dico scrivania, mobile, generico. Libro, penna, penna, occhiali, generico. Nome comune di cosa? O di oggetto. Però si dice nome comune di cosa. Ok? Quindi, di persona, di animale e di cosa? Così come esistono i nomi comuni di persona, di animale o di cosa, abbiamo anche i nomi propri di animali, di persone e di cosa. Nome proprio di persona. Luciano, che è un nome proprio di tutte quelle persone che hanno questo nome, proprio di quelle persone che hanno il nome Luciano. Nicola, nome proprio di persona, di tutte quelle persone che hanno come nome proprio Luciano. Poi, animali. E qui vi potete sbizzarrire. Se io penso al nome proprio di animale, il primo che mi viene in mente, ma perché forse mi piace tantissimo, è Dumbo, l'elefantino del cartone. Dumbo, Nemo, pesciolino e così via. Ognuno di voi, se ha un animale in casa, sicuramente avrà dato un nome di fantasia. Però quello poi è il nome proprio dell'animale. E poi abbiamo i nomi propri degli oggetti, delle cose. Per esempio, se io prendo il nome generico, nome comune di penna, e poi leggo la marca BIC, allora è il nome proprio della marca di questa penna. Ed è importante una cosa, ricordate, il nome proprio va scritto con l'iniziale maiuscola, la lettera iniziale maiuscola, quindi il nome proprio scritto con la lettera maiuscola. Benissimo. Ora, i nomi, i nomi comuni, hanno un genere, genere maschile e genere femminile. Solitamente si dice quando finisce con la O è maschile, quando finisce con la A è femminile. Però vedremo quando approfondiremo più in LA che non è sempre così. E allora il maestro vi dice, c'è un trucchetto, quello dell'articolo. Vi ricordate gli articoli che abbiamo già studiato? Allora, il, lo, noi sappiamo che sono articoli determinativi maschili. LA è un articolo determinativo femminile. E allora, pensiamo all'articolo che precede il nome e riconosciamo il genere. Quindi se io dico la penna è femminile, se io dico il quaderno è maschile, lo zaino è maschile. Allora, è chiaro che in questo caso queste parole finiscono con la A femminile e con la O maschile. però rinforza l'idea del maschile e del femminile l'articolo che precede. Vi dico questo perché poi quando andremo avanti nelle nostre lezioni noterete che ci sono delle parole che possono metterci in confusione. Con l'articolo andiamo tranquilli. E poi, per ultimo ma non per ultimo, il numero di un nome comune. Il numero può essere singolare, quando è uno solo, la penna, o plurale, quando sono minimo due. Possono essere tre, quattro, cinque, dieci, mille, però minimo due per dire che è plurale. Le penne, la penna, singolare, le penne, plurale. Ok? Benissimo. Allora, adesso tocca a voi. Prendete un foglio, prendete il quaderno. Il quaderno. Quaderno a righi, mettiamoci la data e mi raccomando, mettete sempre la data, perché la data è un riferimento storico del lavoro, quando è stato svolto. È un dato. Poi, metterci il titolo con la penna rossa, i nomi. Ok? Poi, il foglio, lo piegate a metà e formate le due colonne, vi ricordate? L'abbiamo fatto spesso in classe, a sinistra e a destra. Allora, a capo, a sinistra, gli scrivete, in stampatello, se vedete lo piccino così c'entra tutto nella colonna, nomi comuni di persona, ripeto, nomi comuni di persona, qui a sinistra, mentre a destra, nomi propri di persona. Nomi propri di persona. Una volta fatto questo, a capo, o uno accanto all'altro, o uno sotto l'altro, forse potete mettermi due per ogni rigo, va bene? Mi fate dieci nomi comuni di persona e dieci nomi propri di persona, due per ogni rigo, va bene? Due, quattro, sei, otto, dieci. Quindi utilizzate cinque righi. Due, quattro, sei, otto, dieci. Poi andate a capo, penna rossa, stampatello, nomi comuni di animali, nomi propri di animali. E fate la stessa cosa, dieci e dieci. Poi andate a capo, nomi comuni di cosa, nomi propri di cosa. Solitamente in classe vi do una mezz'oretta per fare questo lavoro, non di più, siete capacissimi. Prendetemi il tempo che volete, poi me la inviate sulla piattaforma. Nomi propri e nomi comuni. Allora, solo questo per il momento, quindi niente maschile, femminile, liberi. Il maestro vi ha fatto uno schema su tutto quello che vi ha detto oggi. Se volete lo potete ricopiare. Vedete i nomi, comuni e propri. Poi ho specificato, nomi comuni di persona, che possono essere parenteli, relazioni e professioni. Di animali e di cosa. Vedete, i nomi propri, ricordate, con l'iniziale maiuscolo. E poi, il genere maschile e il genere femminile. Ed infine, numero singolare e plurale. Ok? Ora, se volete ve lo potete ricopiare. D'accordo? E questo è il nostro primo incontro sui nomi. Poi andremo oltre, perché dobbiamo specificare alcune altre cose sul nome. Vedete altre cose, però non voglio anticiparvi. Vedrete, è interessante. È curioso per chi altro. La nostra lingua è una lingua molto interessante. Allora, per concludere, il maestro, come spesso capita, per rinforzare la conoscenza, mi fa cantare. Quando parliamo di un nome Dobbiamo specificare Se è un nome proprio comune Se è singolare o plurale Se è femminile o maschile Se è di persona o animale Oppure se è un nome di cosa Bisogna specificare Quando parliamo di un nome Dobbiamo specificare Se è un nome proprio comune Se è singolare o plurale Se è femminile o maschile Se è di persona o animale Oppure è un nome di cosa Bisogna specificare Ok? Spero che questo nostro incontro vi sia piaciuto Un bacione grande Alla prossima! Ciao!